Abbiamo creato questa rubrica, queste pillole brevi, mi ritorni in mente, l'abbiamo chiamata questa rubrica in collaborazione anche con il sito Pisa nella storia, un sito curato da Bufalino. A proposito di tifosi, stasera vi vogliamo far vedere una cosa che risale all'inverno 87, credo gennaio 1987, una trasferta in treno a Modena. Mi ritorni in mente, bella come sei, con sei... Sta arrivando il treno straordinario Neroazzurro, con un po' di ritardo, ma comunque il presidente Anconetani e i suoi collaboratori sono rimasti qua ad attendere il festoso arrivo dei tifosi Neroazzurri. Grazie a tutti! Scusa Messia, allora, tutto bene in questa trasferta? Sì, tutto bene, la gente si è comportata bene, il treno per fortuna per ora, speriamo di vincere, cioè dobbiamo vincere. Però diciamo che la prima parte, quella del comportamento e quella della trasmigrazione da Pisa a Modena... E' andata bene, per fortuna. Buon caldo! Arrivederci! No! No! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quali sono le speranze per oggi? Per oggi? 2-0 per il Pisa. Per tutti i costi. Va bene? Per una bici da tutti i costi. Oggi la vince, siamo più forti di noi. E se invece non si ferma più nessuno. Forza Pisa. Forza Pisa. Siamo troppo forti, troppo. Siamo forti, fortissimi. E vogliamo i nostri punti. Siamo forti. Siamo forti. Siamo forti. Siamo forti. Siamo forti. Questa è la marea dei sostenitori neroazzurri che dopo un pranzo abbastanza veloce, vista l'ora, si porteranno allo stadio Braglia dove sperano che questo entusiasmo sia centuplicato con una vittoria esterna della squadra di Simone che è attesa veramente da molti mesi. Siamo forti. Siamo forti. Siamo forti. Siamo forti.